25, votante 25, seguente bianche 3, palanca gennaio 14, vecchissima netta 8. Chiedo l'immediata esecutibilità di questa votazione. Avorevoli? Contrari? Anzionati? Uno. Quindi proclamiamo il Presidente del Consiglio Cominciale, il Consigliere Gennaro Falacca. A cui lascio due piedi che saranno più alto del Consiglio. C'è quello di vincere la crisi, che non significa aspettare che la crisi passi, perché la crisi può passare e noi potremmo anche risultare tra coloro che hanno pensato. Vincere la crisi significa attivarsi per fare qualcosa in più e meglio, non aspettare, ma muoversi, agire, operare, cambiare. Essere consapevoli che si tratta di una sfida che riguarda tutti, le istituzioni, il sistema bisontino, le professioni, le imprese, ma anche le famiglie e i singoli individui. Attrarre capitali e creare lavoro sono i nostri primi e fondamentali impegni, per creare nuove opportunità di lavoro qualificato, stabile, che crei ricchezza, superando tutte le forme di insicurezza e di precarizzazione. Grazie.